I prossimi passi sono legati a alcune dinamiche. Innanzitutto i fondi raccolti fino adesso consentono di avviare il processo di ristrutturazione dell'immobile, perché l'immobile, il costo complessivo dell'opera è determinato in larga misura dai costi di ristrutturazione della casa, del fascio e della ospitalità, che è un spazio enorme, abbandonato da 70 anni e che quindi per essere rimesso in funzione richiede una ristrutturazione complessiva, tanto è vero che per molto tempo nel passato si discusse persino se radere dal suolo e ricostruirci sopra qualche altra cosa. La scelta del comune è stata invece quella di preservarlo per quanto possibile e utilizzare questo manufatto che ha una sua assoluta bellezza simbolica per molti aspetti, di una città che è al centro, è il manufatto più significativo della Predappio, città di fondazione del fascismo. E quindi c'è questo primo aspetto. Ovviamente per fare questi lavori non ci sono ancora i fondi nella loro completezza, quindi il comune è una fondazione costituenda che vede al suo interno partecipi, le strutture economiche, le fondazioni, le associazioni economiche della città e della provincia, si sta attivando oltre che per trovare risorse in loco, anche per trovare delle risorse nazionali, cioè che riguardino il MIBACT e il governo italiano, perché favorisca con finanziamenti mirati la realizzazione di quest'opera. Grazie.